E1U, ciao! Benvenuti e bentornati sul canale SuperAllen, siamo qui oggi con un nuovo video, oggi ragazzi, reaction spaziale, perché guardate qui quanti ne siamo, tutti quanti, ma fa la realtà, sì, Napoli-Fiorentina, è una partita quasi da dentro fuori, l'entusiasmo è alle stelle, niente ragazzi, non vi faccio dire sensazioni perché siamo molto scaramantici, vi faccio soltanto urlare, forza, NAPOLI, dai! Ragazzi ci siamo, stiamo per entrare, ragazzi, sto con SuperAllen, ma che culo oggi, oh mamma mia, che culo sto con Matthew 8, Matteo detto 8, oppure Mario 1. 8 non diciamolo perché, sui centimetri, nooo, eh bro, eh vabbè. 8 non diciamolo, 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 non dic Diego, Diego Diego, Diego 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 Decisive contro Verona e Udinese. Grazie Pitocchia! E si vende! Grazie! Grazie! Diverso! Di giugatore! Matteo, ma non ero mai da anni? Ma non lo so, c'è mai a tutti i Veronai. Davvero che allo stadio vengono la gara di Serie A tra Napoli e Fiorentina. Diamo lettura delle informazioni, cominciamo con la squadra ospite di Fiorentina. Non tiene nessuno! Grande Calleor! Bravo, bravo! Davoli! Con il numero 25, Gabriela! Ospina! Con il numero 26, Calendù! Juli Marì! Con il numero 6, Mario! Rui! Con il numero 24 della fasciata, Capitano Lorenzo! Di Zinier! Con il numero 9, Vitto! Ospina! A disposizione! Dai cazzo! Dai! Parolto! Era 31, quasi! Golovà! Lascia l'anima sua! Grande uomo, è un grande uomo! Benvenuti nell'arena di fuori grotta, sempre e qualunque! Parcia! Napoli! Chevoli! Ciao! Chevoli! Cheveto! Si riuscord! Cheveto! Chevoli! Chevoli! Che cazzo! Che, Che cazzo! Vitamin者! Che so, Che caos! Che fiiiove! Che fiiiove! La nostra buoncagare, si chiama la polis, si chiama la polis, si chiama la polis. La nostra buoncagare, la nostra buoncagare, si chiama la polis. Vino a sattarviare il rito, eh! Vino a sattarvi il rito, eh! Vivo! Vivo! Abbiamo anche i bambini! Viva! Con cui sarà vittoria! Con cui sarà per noi! Conquistare la perro, a lei Napoleone, lotta insieme a noi Conquistare la vittoria Conquistare la vittoria, conquistare la perro Nooo! Nooo! Ci stava, l'intenzione era bene, è bene Ma andiamoci la guarda da un po' Nooo! Che cazzo fai?! baiiii! tira! 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 è quarto contro biega oh no, oh no, no oh no, no, no oh no, no, no non è il gol? oh no ma è il gol? è ok? vabbè fuori gioco eh vabbè fuori gioco mamma mia mamma mia no no aiutai sembra di sognare oggi ditevi che è uno scherzo come è marino guarda che si allora Zanoli in ritardo non c'è capito perché Zanoli è in ritardo uomo a ricerchella è pure Maria Stena perché Zanoli stiamo in ritardo casemata devo con Zanoli tiro è imprendibile ma Zanoli è in ritardo la battemata è in ritardo è in ritardo siamo sempre qui viene a te è in ritardo nooo nooo no Mattei non ci voglio credere 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 quanto è passata quella palla sull'altra Mattei sembrava di vivere un sogno non ci voglio credere non ci voglio credere non ci voglio credere fine primo tempo male male a parte lanci lunghi inutili stanzi è rimasto atteso tutto lanci lungo secondo me secondo tempo mi ricorda un po' la partita contro Frutinese il Zanoli il Zanoli il Zanoli il Zanoli il Zanoli vabbè Wagyu ci vediamo nel secondo tempo Wagyu vengono l'arma segreta comunque ci vediamo bene che al secondo tempo vatti vieni ce l'hai fatto io è buono bello lo Zanoli 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 6 6 7 8 8 5 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 12 13 15 15 12 6 Juan 50 19 15 15 15 15 18 15 16 Sisseanne! Fuori gioco di partezza! Van Twitch! Su quello della Terra! E' una vergogna, quello che scivolo avanti è da Rossi di Talberra, e' una vergogna uffa, è un disagio, un disagio. E' un disagio, un disagio. E' un disagio, è un disagio. E' un disagio. E' un disagio, un disagio. E' un disagio. E' un disagio. E' un disagio. E' un disagio, stiamo giocando bene, una buona stagione. Più che sperare nei passi passi delle altre. Un po' di tempo, guarda. E' un disagio, veramente. No, ci hanno fatto tutti i ragazzi. E' brutto brutto. Il terzo gol ci ha spezzato proprio le gambe. Il secondo è arrivato proprio quando è un bantone e uno da semigra, però è un'ambiatura di uno e l'altro. E' un disagio. E' un'altra regalata. E' vabbè. Continuiamo a crederci. Difficile, però non ci tiriamo indietro. L'ultimo a morire. Forza Napoli sempre, vai io. Alla prossima. Alemi. Aleri, aleri. Voi. Oliver, laurea, laurea.